ciao a tutti amici collezionisti e bentornati nel canale io sono emiliano 74 e oggi prodotto dalla mattel nel 2003 abbiamo qui con noi beastman a tra poco ok ragazzi prima di partire con la recensione vi voglio ricordare che nel canale attivo un fantastico giveaway qui in alto vi lascio la scheda e vi lascio anche il link in descrizione quindi a fine recensione andate a darci un'occhiata perché non potete assolutamente mancare ok allora veniamo a noi chi era questo beastman tanto per rinfrescare un po la memoria a chi magari non conosce questo personaggio oppure se l'è un po dimenticato beastman era uno dei più fedeli servitori di scheretor infatti appare già nelle primissime puntate della della serie animata degli anni 80 ed è stato anche uno dei personaggi tra i primi ad essere stato introdotto nella linea di giocattoli appunto di quell'epoca caratterialmente era un personaggio molto molto stupido diciamo la sua intelligenza era molto molto scarsa e questa veniva compensata diciamo dalla sua imponenza fisica e da un potere tra virgolette che era quello di manipolare mentalmente le bestie di eternia e infatti qui lo vediamo in sella a griffin questo splendido grifone mitologico dove nella serie proprio del 2002 quella di cui parleremo oggi accompagnava spesso per i cieli di eternia il nostro beastman e i suoi seguaci ma questo potere non era sempre impeccabile infatti con battle cut non funzionava in quanto quest'ultima ne era totalmente immune dunque questo ragazzi è il beastman della serie animata del 2002 come dicevo ed il personaggio come vedete è rimasto pressoché invariato il suo design molto simile a quello del suo antenato con la sola differenza che questo appare fisicamente più massiccio ma adesso lo facciamo scendere dalla sella di griffin e lo andiamo a vedere un po più da vicino come vedete l'aspetto generale ricorda un po quello di un gorilla con questa con questa parte superiore del corpo molto tozza molto robusta braccia possenti e molto lunghe rispetto a quelle che sono le gambe vedete molto molto più corte rispetto al alle braccia e come vedete la figura è scolpita veramente molto bene devo dire che la mattel su queste figure fece veramente un gran un gran bel lavoro almeno a me mi piacciono tutte e beastman forse uno tra quelli che mi piacciono veramente di più ragazzi perché è veramente veramente ben realizzato guardate lo scalt del volto il painting è veramente molto pulito come vedete ci sono tutti i peli ben scolpiti forse magari una leggera variazione di tonalità quindi magari una piccola sfumatura quella l'avrebbe reso ancora più più bello perché il colore diciamo appare abbastanza piatto comunque questa pettorina che indossa veramente molto molto bella che sta a rappresentare una sorta di pellicciotto con dei spuntoni qui sulle spalle con questa catena qui che scende al collo e questo medaglione il tutto scolpito veramente molto bene la catena anche ben dipinta qui abbiamo la cintura con il classico pellicciotto che indossano un po tutti i personaggi di questo universo che abbiamo questa cintura di color verde così come qui su questi bracciali che abbiamo queste parti di corazza diciamo che vanno ad allacciarsi alle braccia realizzate in gomma morbida così come il pellicciotto questo è tutta gomma più morbida ecco qui abbiamo queste ginocchiere con questa sorta di schinieri anche questi molto ben scolpiti e dipinti eccolo qui ragazzi inoltre come un po tutti quanti i personaggi di questa linea è dotato di una gimmick qui abbiamo queste sinceramente sono cose che a me non sono mai piaciute io le gimmick le odio però sono così ce le dobbiamo tenere così comunque qui c'è questo piolino che va spinto il più delle volte va a ecco a scatenare una sorta di ok no non so come se sferra un pugno oppure se con la sua frusta in dotazione deve picchiare i poveri animali di eternia comunque questo è griffin eccolo qui lo poggiamo un attimino qui così ve lo faccio vedere come sta in piedi vi faccio vedere l'accessorio da cui accompagnato come dicevo questa frusta realizzata in gomma morbida molto semplice come realizzazione non c'è molto da vedere io ragazzi questa figure l'ho presa lose quindi non ho la confezione da da mostrarvi anche perché diciamo che queste figure sono anche abbastanza difficili da reperire e nuove costicchiano un pochino è più delle volte bisogna ricorrere ai venditori internazionali quindi la spedizione poi ci mette il carico suo vediamo le articolazioni ragazzi come detto per tutti gli altri masters di questa linea le articolazioni certo non sono il loro punto forte in quanto ne sono praticamente quasi sprovvisti sono io le considererei più figure semi semi articolate la testa ruota a destra e sinistra non guarda né in alto né in basso le braccia si alzano lateralmente fin qui a 90 gradi ci arriviamo e poi anche se diciamo hanno questa sorta di gimmick che abbiamo visto prima comunque le braccia si possono indipendentemente spostare vedere si sente questo scatto quindi vengono avanti e indietro e le gambe si aprono lateralmente fin qui vengono in avanti e niente di più perché al ginocchio al gommito a c'è la rotazione qui della mano e la gamba è tutta totalmente statica passiamo alle misurazioni come vedete la figure è impostata già in questa posa molto rannicchiata quindi diciamo che viene sviluppata più in larghezza che in altezza infatti stiamo sui 16 centimetri come vedete alla schiena lo compariamo con scheletro della stessa linea eccolo qui e ci mettiamo vicino anche i man eccolo qui tanto per vedere un po le dimensioni del nostro beast man rispetto agli altri personaggi ok ragazzi qui finisce questa mia recensione su beast man come sempre spero vi sia piaciuta voi commentate lasciate un like se questa vi è piaciuta iscrivetevi ragazzi dai che stiamo quasi a 900 iscritti non appena arriviamo a mille ce n'è ma qui questo dipende molto anche da voi almeno arriviamo a questi mille iscritti e qualcuno di voi si beccherà uno di quei fantastici premi che ho messo in paglio nel giveaway anzi vi ricordo nuovamente di andarlo a vedere e io con questo ragazzi chiudo qui noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti da emiliano e da beast man ciao 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 ciao